Nella giornata di ieri hanno battuto rispettivamente Sicula, Leonzio e Gela, ora i Gea Virtus e San Cataldese si sfideranno per il secondo turno di Coppa Italia. Il match si giocherà allo stadio dal Contres domenica prossima e attraverso una nota ufficiale la società barcelonese fa sapere che l'ingresso all'impianto sarà gratuito per i titolari dell'abbonamento. Nella Coppa Italia di Serie D non poteva esserci il migliore esordio per la ripescata a San Cataldese che in trasferta a Gela ha vinto il derby con una rete di Gonzales che adesso vi proponiamo grazie alle immagini di Calcedonio Iacuzzi. Grazie a tutti.